Caro imprenditore, ti svelo un segreto. I venditori sono persone strane. Pochi nascono con il sogno di diventare ottimi venditori, ma tanti imparano ad esserlo. Ed è per questo che devi imparare a gestirne la formazione, prendendotene cura come se fosse un neonato. Come fare? Lo spiega Frank Marenda, imprenditore ed esperto numero uno di marketing in Europa. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare per creare una rete vendita? È creare i presupposti. Cioè io non posso installare in realtà dei buoni venditori, cioè non esiste il venditore che viene da me e mi toglie le castagne dal fuoco, tendenzialmente. Cioè non esiste, io ho dei problemi, prendo uno da fuori, viene da me e mi risolve questi problemi perché da domani comincia a vendere e funziona. No. Inserire uno o più venditori ovviamente è inserire problemi. Perché? Perché queste persone vanno formate, vanno gestite, bisogna dedicarci tempo, energie, risorse. E il vero problema non è solo questo, quindi sapere che inserire un venditore è inserire un problema. Un problema nel senso positivo del termine, ok? Però è un problema nel senso che mi sottrae tempo, mi sottrae risorse, quindi qualcuno si dovrà occupare di questa persona come ci si deve occupare di un neonato che abbiamo adottato un cagnolino in azienda. Eh, bisogna che qualcuno ci stia dietro. Cioè il paragone è quello, cioè se no muore, cioè non è che sta da solo, ok? Non è che, cioè se metti una capra in cortile, quella mangia l'erba e sopravvive, il cagnolino muore se non gli dai da mangiare, cioè questa è la differenza, ok? Quindi oltre a questo, quindi oltre a prendere in considerazione il fatto che io debba in realtà prendermi cura di questa persona, l'azienda stessa deve essere un terreno fertile dove piantare i fiori, ok? Perché? Perché alcuni di questi semi non matureranno, ma alcuni invece sì. Solo che il problema è che i semi possono fiorire, ok? La pianta può crescere, può maturare, se in realtà noi stiamo creando quel terreno fertile per fare in modo che le persone possano fiorire. Nella maggior parte dei casi, come sicuramente nelle vostre aziende, quel terreno fertile non esiste, ok? E non è una critica a voi, anzi che non sapete come fare, se la vostra azienda gira, ok? Per come voi, in maniera più o meno istintiva, con il lavoro, la schiena, il cuore, il talento avete creato, ma se volete andare in espansione, ok? Come numero di venditori, dovete fare in modo di eliminare il più possibile le variabili legate al talento singolo e creare invece quella struttura che permetta alle persone di buona volontà, non uno scarto, non voglio vendere il concetto che un coglione lo mettete in un contesto che funziona e funziona, non è quello, ok? Cioè, vi servono comunque delle persone sopra la media, in realtà, per funzionare, ok? Vi serve della gente anche di serie A, non possiamo fare sempre con gli scarti, ok? Poi lavoreremo su questa cosa. Però, in realtà, il vero problema è che, su quale noi vi porteremo in questi due giorni, è che anche persone capaci, anche persone potenzialmente in gamba, in ambito di vendita, vengono bruciate perché l'azienda, in realtà, è progettata nella maniera sbagliata, ok? Da dove partiamo, quindi? Allora, io voglio partire da questo funnel, che è un funnel, in realtà, strategico-aziendale. Non è un funnel classico di quelli del modello funnel della lead generation, no? Quindi lead, prospect, non parla di queste cose qua, ok? Parla di cosa voi dovete fare prima di pensare di inserire un venditore, ok? Quindi, prima di inserire un venditore, io mi devo assicurare che queste cose siano già state fatte. Quindi questa è l'attività, è il tagliando dell'azienda, ok? È l'attività di manutenzione che io devo fare all'azienda prima ancora di creare un funnel, per esempio, di lead generation. Quindi non solo il problema di girare i lead, ok? Il problema è che cosa devo fare in azienda addirittura prima di aprire le campagne marketing per i venditori. Questo è quello che dobbiamo fare. E, normalmente, quindi, i funnel, quando voi li vedete, partono dalla lead generation. Per noi è il contrario, in realtà. Quindi questa cosa è una cosa controintuitiva. Vi prego, vi chiedo di stare molto attenti perché questo passaggio è estremamente importante. Allora, il primo passaggio nel nostro funnel non è affatto nel nostro funnel strategico. Poi c'è il funnel tattico, dove mi occupo di lead generation stretta, ma si trova sotto questo, ok? Il problema è che la maggior parte dell'azienda non ha quello sopra, quindi il funnel della lead generation a voi non serve a niente. Quindi, anche spendere soldi per la vostra rete vendita è sbagliato finché voi non avete sistemato questo funnel che vi insegnerò oggi, ok? Che è il mio funnel strategico legato alla preparazione del terreno per creare una rete vendita. Allora, il primo punto del nostro funnel si chiama trattieni i clienti. Cioè, questa cosa cosa significa? Significa che è inutile che io mi metta a inserire venditori, per esempio, selezionare venditori, ma prima ancora è inutile che io mi metta a fare lead generation, quindi tirare fuori di tasca soldi, ok? Per acquisire clienti da eventualmente passare alla rete vendita, se la mia azienda non è programmata per trattenere i clienti. Questo cosa significa? In maniera molto veloce e semplice. Se voi, fate due conti, ok? Da quando avete aperto, se voi steste ancora lavorando con tutti i clienti che hanno comprato qualcosa da voi, non sto dicendo della gente che si è avvicinata, i curiosi, poi quelli che hanno chiesto informazioni, non hanno chiesto, no, no, no. Quelli che sono stati i clienti, cioè gente che con voi ha aperto il portafoglio. Se voi fosse stati in grado di trattenerli questi clienti e portarli in sviluppo, oggi quanto stareste fatturando? Oggi quanti sarebbero gli utili? Oggi quanto sarebbe la cassa? È chiaro che è un esercizio di stile, nel senso che nemmeno noi non è possibile trattenere tutti i clienti, però è un esercizio intelligente perché, cazzo, è vero che non posso fare il 100%, ma magari quanto cambierebbero i miei risultati se avessi trattenuto il 10% di tutti i clienti che hanno sempre lavorato con me, 10% in più, se fosse il 20% in più, se fosse il 30% dei clienti che hanno lavorato con me, che continuano ad acquistare da me, il 40%, cioè ci sono delle percentuali che sono realistiche, ok? E perché normalmente i clienti quindi non rimangono con me? Quindi non ha senso spendere soldi per cercare di riempire un secchio bucato, cioè i clienti se ne vanno, ok? Perché? Perché probabilmente noi non abbiamo capito realmente che cosa vogliono i clienti, questo è il dato di base, cioè quello che noi facciamo nasce dal nostro amore, dalla nostra passione, dalle nostre convinzioni che abbiamo sviluppato nel corso degli anni su quello che dobbiamo vendere, quindi io faccio questo, io ho studiato questo, la mia azienda, ho sempre fatto questa cosa qua, io vendo queste cose e quindi vedendo che faccio fatica a venderle, a me che cosa viene in mente di fare? Due cose, una volta era solo prendo dei venditori, cioè prendo dei coglioni che portano sul mercato sta roba e vediamo se vanno in giro a venderla, due, oggi per i più moderni si fa la lead generation, cioè spendo soldi per vedere di acquisire clienti, ma se la gente quella roba non la vuole, non la vuole esattamente come tu gliela dai, non vuole esattamente quel prodotto, lo vorrebbe in maniera diversa, lo vorrebbe con un servizio diverso, lo vorrebbe più focalizzato, lo vorrebbe più specializzato, lo vorrebbe servito in maniera diversa, lo vorrebbe con un livello di assistenza diversa, eccetera, 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 la gente quella roba non te la compra, quindi il vero primo punto sul quale io devo riflettere è trova quello che vogliono sarebbe, ok? Quindi trova quello che i clienti vogliono, cioè se tu non stai vendendo, le cazzate stanno in poco posto, cioè tu non stai dando ai clienti quello che vogliono, cioè tu vuoi vendere la tua roba, ma i clienti mica gliel'hai chiesto come cazzo la vogliono, perché se tu dessi ai clienti, cioè se tu avessi cercato di capire quello che i clienti vogliono, tu saresti ricco, perché la formula in tre punti è capisci quello che vuole davvero il cliente come lo vuole, quando hai capito esattamente che cazzo vuole il cliente, vaglielo a prendere, cioè procuratelo, o lo produci te, o c'hai un fornitore che te lo dà perché tu sei un rivenditore, o un mix, metti insieme dei pezzi e crei un prodotto finito, ok? O crei tu sei un prodotto o un servizio e poi fornisciglielo o consegnaglielo, non è più difficile di così, cioè prendi, capisci quello che la gente vuole, non sei un albero, non hai le radici, non sei obbligato, cioè se la gente, se tu mi rompi i coglioni non vendiamo abbastanza, non vendiamo abbastanza e non si vende, come mai i clienti non comprano, come mai i clienti vogliono lo sconto e come mai i clienti, è perché non stai vendendo quel cazzo che vuole la gente, te ti sei spiegato di vendere una roba esattamente come la vuoi te e al cliente non gliel'hai chiesto se la voleva così e quindi esiste una differenza tra quello che compra a te e il cliente. Il cliente, parliamo delle problematiche che noi abbiamo normalmente, il cliente non vuole comprare, mi fa le obiezioni perché normalmente c'è un problema di prezzo e tutte queste cose qua, bene, ma quindi cosa significa? Voi ragazzi dovete capire cosa significa vendere il mio prodotto o servizio o vendere per i motivi accessori. Traduco, o io vendo il mio prodotto o il mio servizio o la gente sta comprando, visto che non gli piace esattamente il mio prodotto o il mio servizio, sta comprando da me per i motivi accessori. Quali sono i motivi accessori? I motivi accessori sono che sbrago il prezzo, quindi che gli faccio uno sconto e quindi facendogli uno sconto automaticamente il mio conto economico ne risente perché ne risentono i margini, quindi ne risentono gli utili, la prima cosa che impatta lo vedo lì, oppure sta comprando i bonus che gli do, cioè gli accessori che ci sono sopra le cose che io aggiungo, ti do più cose, ti do più servizi, ti do più questo, ti do più quell'altro e quindi in realtà anche in questo caso sto danneggiando la mia marginalità, sto danneggiando i miei utili o sta comprando il fatto che rispetto alla concorrenza io e o gli faccio condizioni di pagamento più dilazionate, migliori, quindi sto distruggendo, vado a vedere il mio rendiconto finanziario, vedo anche il stato patrimoniale, la mia cassa tendenzialmente ne risente. Quindi la gente è da voi, è carica, cioè gli state dando una cosa che lui cerca, state servendo la folla affamata con quello che vuole o nella media dello schifo la gente non trova veramente quello che vuole e quindi arriva addosso e vuole sconto e sta comprando lo sconto e sta comprando le cose in più che gli date e sta comprando le dilazioni di pagamento che voi gli state dando. Sta comprando il prodotto o il servizio o sta comprando gli accessori? Se sta comprando gli accessori vuol dire porca di quella puttana che voi la prima parte di questo esercizio capisci, cioè trova quello che vuole, voi non l'avete fatta. E come si fa a fare questa cosa? È abbastanza semplice ma di base facciamo mezzo passo indietro insieme. Il concetto di base sul quale io devo lavorare è, l'abbiamo detto sempre, anche per la creazione di una rete vendita, la creazione di un brand. Quando è che io mi rendo conto che ho un brand e quando invece non ho un brand? Allora servono due, io mi rendo conto, il brand, avere un brand è una cosa scientifica, cioè la potete misurare quanto è forte il vostro brand, voi lo potete misurare, vi spiego da che cosa, sono due cose, segnatevi queste cose, non ve le insegna nessuno. Allora, la prima, io ho un brand se ho un flusso di clienti che comprano da me in automatico, fine, ok? L'Apple non c'ha i venditori, cioè l'Apple c'ha la gente che fa la fila, ieri ho pubblicato un articolo dove l'Apple tutti sono lì, ah da quando non c'è più Steve Jobs, ah ma l'Apple, in realtà hanno battuto nuovamente tutti i record di vendita degli iPhone, ieri sera ho pubblicato, ieri sera, ok? Ieri sera, l'Apple, ok? Perché è un brand e quando lancia qualcosa c'è la gente che fa la fila, lancia il nuovo Mac e la gente lo vuole, non uguale, lanciano l'iPhone e la gente lo vuole, lanciano l'iPhone e la gente lo vuole, lanciano l'Apple Watch e la gente lo vuole, fine, ok? Non c'è bisogno di venditori, la gente quella roba la compra da solo, la Coca Cola la gente la compra da solo, le Nike la gente le compra da solo, i brand, ok? Hanno un flusso di clienti che acquista in media da solo, poi certo che servono anche i venditori, non è vero che l'Apple non ha i venditori, ce li ha all'interno degli store, la gente che serve, certo che nei negozi della Nike c'è il commesso addestrato a vendere, però c'è un flusso di persone che viene apposta per quel prodotto, lo devi proprio demotivare, cazzo, affinché non lo compri quando è venuto lì. Quindi uno, avere un flusso di clienti che acquista da solo senza l'intervento di trattative di ore. Due, il brand non è un brand e non è una ragione sociale e non è una marca e basta, quando non ha bisogno, e non è che ha bisogno, non fa per definizione sconti. Io ho un brand, se la gente compra da sola e non chiede gli sconti, voi provate, mi è venuto in mente andare a comprare un iPhone e dire, ma mi fa un po' di sconto? Il posto dice, vaffanculo, togli dai coglioni perché lo vendo alla gente che c'è in fila dopo di te. Avete mai provato ad andare al Nike store e chiedere se vi fanno lo sconto sull'Air Jordan? Vi mandano affanculo, ok? Avete mai provato a chiedere lo sconto a noi? Vi mandiamo affanculo, cioè pari pari, ok? Le aziende che fanno gli sconti non hanno un brand, vuol dire che sono una commodity e quindi stanno vendendo in parte il loro prodotto e servizio, in parte stanno vendendo lo sconto, le dilazioni di pagamento e i bonus aggiuntivi in termini di prodotto aggiuntivo o di servizio rispetto a quello che fanno. Questo è un brand, ragazzi voi non potete vero dalla sera alla mattina, ci lavoriamo, abbiamo tutti i corsi che fanno questa cosa, eccetera, eccetera, però è per farvi capire che tu non puoi partire, ok, se non capisci esattamente che cosa vogliono i clienti. Quindi la creazione di un brand nasce da renderti conto che se hai difficoltà a vendere non è che le puoi girare sulla schiena ai venditori, è che la tua azienda è una merda perché il prodotto che ti sei spiegato di vendere te è esattamente così, magari è troppo simile a quello che fanno gli altri, non si capisce un cazzo e la gente non lo vuole, la gente fa la trattativa, la gente chiede lo sconto, la gente manco capisce bene che cazzo vendi e la gente, ok, fa fatica ad acquistare, quindi è un problema di che cazzo sto facendo. Quindi la prima regola è capisci esattamente come vuole il tuo prodotto di servizio al cliente e quello è il posizionamento, il posizionamento è trovare in mezzo a tutte le offerte che ci sono un modo unico, particolare, straordinario, distintivo di servire o creare o proporre o porgere, ok, o progettare il tuo prodotto, il tuo servizio per offrirlo ai clienti in modo che i clienti dicano cazzo fantastico, non siete, cioè se non state vendendo un cazzo, non siete obbligati a continuare a fare le stesse cose, io ho capito che siete col cervello bloccato, ma io ho sempre fatto sta cosa, ma io che devo fare, sono un commercialista, che devo dire, non me ne frega un cazzo, se sei abituato a fare così, hai sbagliato, se tutto lo scopo del marketing in realtà è trovare un modo diverso di proporre il tuo prodotto, il tuo servizio in modo che sia appetibile, cioè se tu hai dei panini e non li vendi, hai bisogno di metterti, si dice in gergo tecnico davanti a una cazzo di folla affamata, spostati da lì e mettiti davanti a uno stadio che quando esce la gente dopo due ore che è lì che urla, che non beve, non magna, c'ha fame, mettiti davanti a un cinema, mettiti davanti a un cazzo di teatro, mettiti davanti a un posto dove la gente quando esce sente il profumo della porchetta e vuole mangiare quel cazzo di panino, se te lo metti in un piazzale dove non c'è nessuno magari la gente non lo vuole, quindi voi non siete condannati a vendere quello che state vendendo esattamente così, quindi oddio, io sono costretto, chi cazzo vi obbliga a vendere quel prodotto che state vendendo come lo state vendendo, c'è qualcuno con una pistola alla testa che vi sta dicendo tu devi vendere per forza questo servizio come ti ho detto io perché sennò muore qualcuno, cambiate quel cazzo che vendete innanzitutto, create un prodotto, un servizio attraverso il marketing, posizionate quel prodotto o servizio in modo che la gente dica ah cazzo finalmente ci deve essere una richiesta, quindi la regola della ricchezza è molto semplice, ok? Se non siete ricchi è perché state cercando di vendere un prodotto del quale vi siete innamorati voi, invece come direbbe Jay Abram, ok? Invece che esservi innamorati del vostro cliente cercando di dargli la roba che vuole lui e quindi non esiste questa lotta, ok? Se voi state facendo le cose in maniera corretta, se no sarà sempre un cercare di vendere le cose accessorie invece del prodotto del servizio perché il mio prodotto o servizio non si sposa perfettamente con quello che vuole il mio cliente, perché? Perché sto facendo le cose alla vecchia maniera, perché sto facendo le cose come mi hanno insegnato, perché sto facendo le cose come le ho capite io, sto facendo le cose perché secondo me, ma non ho chiesto ai clienti, quindi questa regola, trova che cazzo vogliono i clienti, ok? Vagliela a prendere, procuratela, creala, costruiscila esattamente come la vogliono loro e poi consegnagliela, se tu applichi sta roba devi essere ricco, se no non è un problema, cioè che cazzo serve se tu non hai un prodotto o un servizio che è richiesto in maniera con la fotta così, cosa serve mettere dei venditori? li massacri, cosa serve spendere dei soldi in lead generation? Cosa serve? Per fare da preventivatore online alla gente, cosa serve sta roba? A niente, quindi la prima regola non è, ah fai la lead generation a Moreno, fammi le campagne, ma come si fa Facebook, vado quello fa Google Ads, non serve un cazzo quella roba lì, non serve a niente. Allora, se noi guardate, ragazzi, cioè, se voi semplicemente ascoltate, uno ascolta i clienti, ma due, ci sono degli strumenti oggi che sono fantastici, fate una prova, non so, in tempo reale, se andate su Google e digitate qualunque parola legata a un problema che voi risolvete, eccetera, eccetera, Google vi dice che cazzo cerca la gente, ok? Cioè, che cazzo ne so, digitate, non so, mal di schiena, la prima stronzata che mi viene in mente, ok? Se voi digitate mal di schiena, vedrete che ci sarà, mal di schiena per bambini, mal di schiena per se ho un tumore, mal di schiena alla parte alta, mal di schiena alla parte bassa, mal di schiena perché c'ho l'artrite, cioè, la gente vi dice esattamente che cosa sta cercando e se voi invece che vendere quel cazzo che volete, che io sono un osteopata, come trovo i clienti? Ah non lo so, perché sei un cazzo di generalista nel tuo settore, non lo so, saprei dirti come cazzo si trovano i clienti se tu fossi uno focalizzato nel risolvere mal di schiena per i bambini. Ok? Se tu facessi quella roba lì, io saprei, mal di schiena per donne in gravidanza, se tu fossi lo specialista italiano, c'è scritto, lo dice Google gratis, porca puttana, ti metti lì, io non lo so, sto inventando, non lo so se è così, ok? Ma secondo me se andate a guardare, vedete ci sarà mal di schiena per le donne in gravidanza, mal di schiena, sarà così, ok? E se tu diventassi, che cazzo vuole esattamente un cliente, come faccio io a diventare il punto di riferimento di essere quello che dà esattamente quella roba come la gente la vuole, ok? E gliela servo su un piatto, la vado a prendere, quindi la creo, il servizio, prendo le mie competenze, le riorganizzo intorno a quella specializzazione, a quella nicchia, eccetera, eccetera, e comincio a venderlo e glielo do. La gente lo cerca, ma cosa fa? Non trova nessuno che dice di essere bravo, specializzato a fare quella roba lì. Quindi compara tutti i vari generalisti del mondo, quindi compara tutti i vari chiropratici, osteopati, massaggiatore di sto cazzo e dice, speriamo che questo sia bravo col mio problema. E quindi sarà, dubiterà e quindi ti chiederà un preventivo e quindi non si sa se viene, poi ti chiederà lo sconto, un cazzo in altro, ok? Provate a cercare, pelle secca, che cazzo ne so, ok? Problemi alla pelle, boh, pelle secca. E ci sarà. Pelle secca alimentazione, pelle secca alle gambe, pelle secca alle mani, pelle secca per il viso, ok? Pelle secca prodotto, cioè Google gratis, quando scrivete sta roba, vi dice sotto cosa la gente sta cercando. Se voi non gliele date quelle soluzioni, se voi non create gli iceberg, se voi non create i funnel, non create i materiali, non create i contenuti, non vi posizionate per quella cosa lì, non cominciate a comunicare, ragazzi abbiamo finito di parlare. Cioè se voi non date alla gente quello che la gente sta cercando, che cazzo ci avete aperto un'azienda intorno a fare? Ma perché avete aperto un'azienda intorno a una roba che volete vendere voi ma la gente non vuole comprare. Se non ci sono le ricerche su Google quel cazzo di prodotto non lo vuole nessuno, quindi smettetela e fate altro. Che non sto dicendo che io faccio il dermatologo e domani devo andare a fare il pizzaiolo, cioè non è qui, cioè è che intorno alla vostra professione, la vostra professione può essere ricostruita per servire le persone con dei problemi reali. Prima ho detto il commercialista, chi cazzo ha bisogno oggi del commercialista che in 30 minuti cazzo le fatture su tutte le elettroniche registrate fai così, non serve più, cioè quel lavoro che una volta non serve un cazzo, i commercialisti sono diventati superati dalla tecnologia, però hanno delle competenze, cioè no, non è vero, non capisco un cazzo, però dovrebbero nella media avere delle competenze per poter aiutare gli imprenditori a capire determinate cose, potrebbero spiegare i commercialisti quelle cose che spieghiamo noi, che spiega il dottor Catanzaro, che spiega Raffaele e i documenti di bilancio e dacci un occhietto, dovrebbero quadrare, con due stati patrimoniali, apertura e chiusura, se guardi in mezzo sul conto economico, ti dà quel risultato sull'utile, ti mostrano la differenza che te la vai a vedere sulla cassa, sul rendiconto finanziario, impariamo a guardare le commenti, cioè due cose cazzo per aiutarti a mandare avanti l'azienda potrebbero farle, perché quello che facevano fino a 5 anni fa oggi non esiste più, ma se tu non ti ricollochi, certo che sei morto, certo che sei morto, in qualunque lavoro, in qualunque professione, quindi ragazzi la prima cosa che voglio ti chiedere, ma quello che io vendo, non lo vendo perché non lo vuole nessuno o per quale motivo, e chi cazzo vi obbliga, quindi la soluzione alle vostre scarse vendite non è inserire dei venditori, è porca puttana in realtà creare, rimpacchettare un cazzo di prodotto o servizio che la gente stia cercando che voglia. Caro imprenditore, se sei arrivato fin qui è perché ti è piaciuto questo video, per questo ti chiedo, e se ci fosse un club esclusivo con incontri di aggiornamento ogni mese per persone che vogliono raggiungere il successo proprio come te? Sto parlando del circolo degli imprenditori di Frank Merenda. Se vuoi scoprire l'offerta a te dedicata, ti basta cliccare sul link in descrizione. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai bravo, iscriviti ora!